Franzoni è una delle più grosse depravazioni del movimento Novax. Cosa intende per depravazioni? Depravazioni, se pensiamo che quest'uomo dovrebbe rappresentare un partito politico, addirittura candidarsi, non c'è che da vergognarsi, tra l'altro nel silenzio assoluto dei Novax, anche della dottoressa. Io la ricordo benissimo la dottoressa quando si è affacciata al mondo Novax. Tutti che gli andavano, tutti che se la volevano prendere, commercialisti, magistrati, avvocati. E lei è diventata un'icona e un leader Novax. Però io e lei abbiamo una cosa in comune, dottoressa. Io mi ero scordato di essere un medico e me ne vergogno. Lei si dovrebbe vergognare di essersi scordata di essere un vicequestore. Perché le cose che lei dice, che sono assolutamente estreme, addirittura rifiutare un tampone, sono qualcosa di assolutamente vergognoso. Per quanto riguarda le piazze, questi sono segnali di malati terminali, ma era tutto programmato, dottor Giletti. Qua è una resa che sembra così, ma in realtà io parlando con i miei ex amici, se possiamo chiamarlo, c'è un fermento grandissimo. Perché adesso entra il vero obiettivo di tantissimi, la politica. E queste piazze che vanno a vuoto servono, perché bisogna fare una cernita. Perché fino ad oggi c'erano persone che portavano consenso, ma sono improponibili a certi tavoli. I famosi Covid party, di cui dicevamo, non sono più dove si va per andarsi ad infettare. Adesso sono prima tutto a pagamento, perché la politica costa. E poi soprattutto sta nascendo un network. Io le voglio dire questo. Arrivo Schilliro, arrivo, arrivo. È l'ultima cosa che dico. Ho in questo momento un network, cioè un network dei Novax, che molti sottovalutano. In questo momento la realtà collaterale, l'economia collaterale, tutta controlegge, avallata da gente anche come la dottoressa Schilliro, è fortissima, meno appariscente, ma fortissima. Non vi fate ingannare, questo era tutto programmato. Adesso l'obiettivo sono le elezioni. Dottoressa Schilliro ha dimostrato.